Un concorso di idee per la riqualificazione dell'intero tratto di strada di Via Francesco Spirito, principale accesso nel centro urbano di Giffoni-Vallepiana, e quanto disposto dall'amministrazione comunale, che ha deciso di lasciare spazio alla fantasia e alla professionalità dei tecnici che vorranno cimentarsi, in forma associata o singola, per vincere l'ambito premio. I concorrenti dovranno predisporre una proposta ideativa, nella forma ritenuta più idonea alla sua corretta rappresentazione, relativamente allo sviluppo del progetto. Un modo, spiega il sindaco Antonio Giuliano, per rendere la nostra città sempre più europea.